Da Vetusto è abbandonato deposito delle locomotive a spazio vivo dedicato alle biciclette e alla mobilità sostenibile. Dopo la riqualificazione del sottopasso dei cappuccini sta per aggiungersi un altro tassello alla rigenerazione dell'area ferroviaria pesarese. È stato infatti affidato l'appalto per il cosiddetto Bike Hub, una stazione di bicipolitana il cui cantiere da 850 mila euro prenderà il via Settembre per almeno otto mesi di lavori. Sarà a tutti gli effetti il punto di riferimento non soltanto per le amanti delle biciclette ma anche per i giovani perché all'interno di quello stabile saranno realizzati sia un'officina, un punto di riferimento per tutti coloro che si muovono con la bicicletta, utilizzano il treno per viaggiare piuttosto che gli stessi pesaresi che avranno un posto con il deposito sicuro dove poter lasciare le proprie biciclette, anche le biciclette elettriche. Quindi un punto di riferimento per la bici ma anche un bar gastronomico, quindi un luogo volto a ospitare piccoli eventi, concerti, un luogo dedicato ai giovani in uno spazio che ad oggi era di fatto lasciato, degradato, abbandonato se stesso. Un intervento importante che appunto darà completezza alla riqualificazione di quell'area avviata con la realizzazione del sottopasso, con il deposito delle biciclette che verrà aperto nelle prossime settimane e quindi già la parte del deposito del manufatto già realizzato finito in Corten verrà aperto nelle prossime settimane e i lavori che partiranno sicuramente entro l'anno per poi avere per l'autunno, mi spingo un po' là però l'obiettivo è quello di avere nell'autunno del 25 un edificio finito, pronto, utilizzabile, fruibile.